il cubo circolo universitario gioiese il 21 aprile 1965 nella nostra città su iniziativa di un nutrito numero di studenti universitari fu fondato il cubo circolo universitario gioiese il primo presidente fu eletto il compianto gigi di oculano il circolo nell'ambito goliardico fu denominato sager ordo scarabèi nella sede che era ubicata in un locale di fronte al cinema politeama funzionavano una piccola biblioteca una sala musica un bar fornitissimo una saletta per la televisione e l'immancabile tavolo di ping pong incontri serali in armonia discussioni animate rafforzavano le nostre amicizie